Aspetti un momento, aspetti in atto, in piedi, consapevole della responsabilità morale e giudica che il suo impegno assume, si impegna a dire la verità e non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza. No, deve dire mi impegno e non va bene. Si è preso dell'Ashish, da un ragazzo tunesino, poi a lui è palestinese, da un marocchino, 5 euro, due canne, due poliziotti, tira fuori la roba, il fumo. Anche io posso andare da lei a dire polizia, la polizia municipale fa le molte, perché diciamo la verità, la polizia c'è paura un po' quando c'è il fumo, anche dei carabinieri, ma della polizia municipale si andano a cagare. Avevo due canne, c'è un pezzo così, non c'avevo mica un chilo. Era una bella da Dio, la Mazda, Polizia Municipale, che erano tutti straesaltati. Ho notato che era strappestato, saccagnato, era messo male. Aveva un occhio che sembrava manco avesse combattuto con Mike Tyson, vabbè, ai tempi d'oro, nel senso quando proprio tirava giù di brutto. La scimmia, uuuuh, vabbè dai a capire, uuuuh, la scimmia, uuuuh, sì eh. Eh, le Nike, i vei vestiti, il cappellino, giacca dell'Adidas, c'è, vestiti da fighe, c'è, vabbè, si vede dai. C'è, troppi film americani, il palo, lì c'è, entri, prendi il fumo e vai. Allora le devo fare una contestazione. Eh, va, che dobbai. Il palo è una cosa da film. Il palo è una cosa da film. Il palo è una cosa da film.